In infocamera le idee sono fondamentali perché proprio il concetto di idea è centrale nel processo che parte dal problema, idea, soluzione. Stiamo cercando di creare un ambiente che favorisca la nascita delle idee e quindi un ambiente che ha bisogno di comunicazione, che ha bisogno di circolarità, che ha bisogno di passare da un'azienda tradizionale gerarchica ad un'azienda circolare dove la parola chiave è il team, il gruppo, la squadra. La creatività parte con un impulso individuale e non può che essere così, parte dal nostro cervello e quindi siamo noi a essere motivati a essere creativi. Ma proprio perché il nostro cervello si connette abbiamo bisogno di connessioni esterne, cioè dobbiamo confrontarci con gli altri ed ecco che in questo punto la creatività diventa collettiva. La capacità di individui di essere sintonizzati sulla stessa lunghezza ronda, quindi avere le stesse funzioni, avere gli stessi obiettivi, le stesse necessità. Ecco che a questo punto è come se parlassimo di un cervello collettivo. Per noi questo è un concetto molto familiare perché siamo partiti proprio con l'interconnessione nevralgica nel paese, il collegamento fisico di tutte le camere di commercio e delle loro seri. Ecco addirittura si pensa che le persone creative abbiano una quantità di sinapsi al di sopra della norma e che quindi la qualità di connettere informazioni sia l'effettiva qualità che fa differenza nella creatività. Grazie. Grazie. Grazie.